Ciao a tutti ragazzi, io sono Mari, io sono Ginevra, e noi insieme siamo nella Vespa, no, siamo i Zapputini, e oggi volevamo andare a mangiare al McDonnell, no, non con la Vespa, non con la Marcia, infatti c'è pure lo sportello aperto, ci vediamo dopo, però adesso guida. Ciao a tutti, aspetta, aspetta, devo guidare io, non è giusto. Sì, e poi io. Vabbè, siamo a Parico. Vabbè, siamo a Parico. Vabbè, siamo a Parico. Sì, e poi siamo a Parico. Sì, e poi siamo a Parico. Vabbè, siamo a Parico. Sì, e poi siamo a Parico. Sì, e poi siamo a Parico. devo farla e devo farla in borsa ok non è il caso mio quindi schifiamo che cazzo è spinta? devo metterla in borsa non è visitato come? come? vorrei muovere pure quello che vuol dire? vai 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 fai gol vai fai gol nooo mi disse buca va 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 ha fatto buca in più dobbiamo cambiare il gioco non è il caso mio ma come si cambia? aspetta scelgo io che ho detto che è sta roba? giocca giocca ma nulla e tre due uno no oh l'ho preso l'ho preso non so perché non l'ho preso eh vabbè ma che fa stai roba che fa stai roba? ho preso dopo che ce l'ho fatta? no ma è divertente sto gioco facciamo no aspetta posso scegliere io no auto da corsa posso ti batto questo ti batto voglio questa ma che voglio questa? ok mettila la mettila la 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 e tre e due e uno start io te lento tu sei là come si guida? ok ciao sono primo all'altro lato si va ok si ci sono paaa gini da l'altun lato dobbiamo dare paaa oh ginebra aiuto togli il braccio cameraman allora aiuto 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 ci ha fatto ci ha fatto ci ha fatto allora allora mi sono bloccato qua mi sono bloccato qua mi sono bloccato qua raghi raghi no vabbò non mi prende lo snacolo no l'ho preso si si ho vinto vengiamolo ora io mi sono bloccato mi sono bloccato mi sono bloccato mi sono bloccato e lo snacolo che è sta roba che è sta roba che è sta roba Non è il mio sonno, raga. Dopo a me, però, scusami. Guarda, tu che vuoi? Questo? Ok, ho capito. E' in un prossimo video. Ah, no, li facciamo. Ciao, ragazzi, a dopo. Ci vediamo in un video. A dopo. Che fai? Una la devi scegliere, dai. Andiamo a fare un gioco in inglese. O avvieni la parte interiore. Vorrebbe essere. Sì, ora. Però. Sì, Zukunft. Sì, ma che stupendo! Sì, con il panore c'era! C'era, c'era! Stas, stas, stas Allora, un blanco Ah, una cosa! Va bene, dai, si faccia pure, no? Ecco, sì, sì, anche qua Mamma! Ma che fai, no? Ragazzi, voi direte, perché hanno hanno, come si dice giocattoli diversi perché oggi c'erano cose diverse Bella risposta, eh? Mamma! Allora 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 Che cos'è Rupert? Che cos'è Rupert? Che cos'è Rupert? Ciao ragazzi, nel prossimo video adesso... Vivo! Ciao! Ciao!